I numeri sono straordinari, 4 giorni di festa con oltre 200 incontri, 30.000 presenze stimate, più di 1.500 libri venduti nel bookshop al Circolo a Ternino, numeri importanti anche sui social e online, 250.000 pagine del sito visitate, quasi 300.000 interazioni con i post dei social in soli 4 giorni. Il direttore del FLA, Vincenzo D'Aquino, snocciola i numeri della 21esima edizione andata in archivio il 12 novembre. Il festival si conferma prezioso patrimonio culturale di Pescara, capace di arricchirsi sempre di più negli anni. Nel corso della conferenza stampa conclusiva, D'Aquino ha annunciato la notizia della prima data speciale, un extra FLA in programma il 28 novembre all'auditorium Flaiano. In quell'occasione ci sarà la presentazione dell'anteprima nazionale del nuovo libro di Donatella di Pietrantonio dal titolo L'età fragile che uscirà nelle librerie di tutta Italia proprio quel giorno. Ascoltiamo l'autrice soddisfatta e che spiega il titolo del libro. Ci tenevo moltissimo e ho appunto preferito che la prima uscita dell'età fragile fosse qui a Pescara. Io vivo in un paese, Penne, ma considero Pescara la mia città. Mi sento di poter anticipare almeno questo, che l'età fragile, in realtà il libro non dà una risposta su quale sia l'età fragile perché tutte le nostre fasi di vita ci espongono a questa condizione di fragilità.